La prosecuzione dell'esperienza di governo di Francesco Maragno ruota anche attorno all'agenda Montesilvano, il documento che contiene i punti che la lista civica hashtag Montesilvano 2019 guidata da Antonio Aliano ha sottoposto al sindaco. Si tratta per ricomporre la frattura all'interno della maggioranza di centrodestra, divisa soprattutto sui temi dell'accoglienza agli immigrati. Se non dovesse riuscire la mediazione e quindi dovesse arrivare un voto contrario al documento di bilancio in approvazione da parte del Consiglio, potrebbero anche arrivare le dimissioni del primo cittadino e il commissariamento dell'ente. Noi abbiamo chiesto una gestione completamente diversa degli immigrati. Non è possibile tappezzare il territorio di immigrati, addirittura utilizzare la struttura Trisi, che è un centro che dovrebbe diventare di eccellenza, frequentato da bambini e donne per ragioni di carattere sanitario, di orientamento lavorativo per immigrati. Questo noi lo scludiamo a prescindere da ogni tipo di concertazione, quindi è una pregiudizievole. Oltre questo c'è anche la gestione degli SPRAR, che deve essere fatta in maniera meno impattante, non possono essere inseriti in contesti in cui già c'è difficoltà per la presenza di delinquenze e prostituzione. E da ultimo, importantissimo, sia un avviso pubblico per le manifestazioni degli eventi e sia la costituzione di un polo commerciale in un tratto di corso Umberto già individuato, che doveva diventare a traffico calmierato da lunedì al giovedì, e limitato al ciclabile e al pedonale dal venerdì alla domenica. Il Consiglio Comunale di questa mattina si è chiuso con un nulla di fatto, bloccato sugli emendamenti al bilancio dell'opposizione. Riprenderà alle 17.30 prima, però, ci sarà un incontro tra i dissidenti del centrodestra e il sindaco Maragno. Stiamo lavorando, come sempre seriamente, per risolvere i problemi della gente. È normale, del tutto fisiologico, che nell'avvicinarsi della seduta di bilancio ci possano essere delle frizioni, dei malcontenti, perché ovviamente e oggettivamente non tutte le posizioni sono condivisibili né possono essere avvalorate. Fa parte del gioco delle parti, lo sappiamo, stiamo lavorando anche per comporre le fratture, quindi credo che il bilancio darà i suoi frutti con l'approvazione, soprattutto per quelli che sono i contenuti di questo bilancio, che è un bilancio davvero di qualità, che contiene davvero delle iniziative che daranno il rilancio di questo territorio. Grazie.